Eccoci qua Pasquale, siamo riusciti finalmente a dare vita a quello che era un po' il nostro disegno strategico, quello di riuscire a unire il mondo dell'Operational Technology, lo T, con il mondo dell'Information Technology, che tu rappresenti molto bene con il gruppo Relatec. Cosa ne pensi di questa iniziativa? Per il mercato è un'opportunità importantissima quella della convergenza del mondo OT con il mondo IT, perché finalmente grazie alla nostra soluzione end-to-end, basata proprio dall'esperienza congiunta di EFA e Relatec, riusciamo a far conoscere il mondo digitale a tutte le industrie. E lo facciamo grazie alla semplicità delle nostre offerte e dei nostri servizi, facendo toccare con mano le tecnologie in questo mondo nuovo, che è quello digitale, a tutto il mercato industriale. Ecco, a tuo avviso quali sono i servizi digitali che aiuteranno il mondo del manufacturing? Grazie all'offerta a 360 gradi che il nostro gruppo, sia EFA che Relatec, può offrire, riusciamo a offrire i servizi digitali che partono sia dalla completa Digital Custom Experience, quindi quella che oggi si chiama Digital Twin, quindi virtualizzare le macchine, e fare in modo di offrire servizi di assistenza remoto, ottimizzandone quindi i costi di manutenzione e di servizi, ma soprattutto offrendo questi servizi in maniera sicura. Quindi per noi è molto importante anche la digitalizzazione, ma anche l'altro lato della medaglia, ossia offrire questi dati in sicurezza, e infine offrire soluzioni che permettono di ottimizzare gli investimenti e fare in modo che questi investimenti nella digitalizzazione fanno permettere a tutte le aziende di qualunque tagliare di ritornare da questi investimenti. In che modo? Facendo conoscere sempre di più questi dati che le aziende hanno e quindi in un certo senso evolvere nel loro business model. Quindi è un'opportunità per tutto il mercato anche per creare nuovi servizi digitali collegati alle macchine. E questo lo riusciamo a fare grazie all'end-to-end data-driven che EFA e Relatec riusciranno a fare. Perfetto, sono perfettamente d'accordo. La nostra offerta al mondo delle PMI mi auguro che cambi radicalmente anche il loro approccio verso questa nuova ondata, questo nuovo fenomeno che è la trasformazione digitale che tutte le aziende devono intraprendere. Grazie a una soluzione concreta e pragmatica come la nostra Io credo che le PMI, oltre che alle grosse aziende che noi serviamo quotidianamente, ne avranno un grande beneficio. Concordo Franco, infatti la nostra offerta è per tutte le taglie, soprattutto per le piccole e medie imprese che hanno magari budget limitati e noi grazie al nostro approccio modulare e scalabile riusciamo ad accompagnarle anche facendo education sulla digitalizzazione, perché è importante anche fare in modo che le aziende sappiano utilizzare la digitalizzazione nel modo corretto, in maniera modulare. Grazie alla scalabilità della nostra offerta riusciamo quindi ad accompagnare queste aziende.